e siamo arrivati al 25 giugno 2020 mentre questa estate in furia caldissima come non ce la saremmo mai aspettata il vuo di oggi è rampage furia animale il nome già un programma comunque un arrab di 20 minuti uno snatch un rim muscle up 3 squat clean 4 and step push up e 200 metri di corsa pesi scalature sulla grafica qui di fianco noi ci vediamo domani per l'ultimo della settimana su cipartv ciao